Dopo quattro anni di assenza, il celebre circo Rolando Orfei torna finalmente a Rieti, portando con sé un carico di emozioni, storia e spettacoli che hanno incantato intere generazioni. Una lunga assenza prima di tornare a far tappa in città per la famiglia Orfei, che durante il lockdown del 2020 rimase bloccata qui per sette lunghi mesi, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Un momento difficile per l'intera compagnia circense, costrette a fermare gli spettacoli e senza la possibilità di spostarsi, a reinventarsi per sopravvivere. L'incertezza del periodo, unita all'impossibilità di svolgere il loro mestiere, ha creato momenti di sconforto e difficoltà logistiche ed economiche. Tuttavia, lo spirito del circo ha tenuto duro e la resilienza della famiglia Orfei è stata essenziale per superare quella fase critica, anche grazie alla comunità reatina e alle tante associazioni che si sono mostrate solidali e vicine e alle quali il circo oggi vuol dire grazie. Siamo veramente felici, felicissimi di ritornare nella città di Rieti. Abbiamo fatto di tutto per includerla nella nostra tournée. Non è stato semplice perché comunque ci sono delle tappe già programmate e Rieti non era programmata, ma abbiamo fatto veramente di tutto per includerla dentro nella nostra tournée. Questo perché c'è una grande riconoscenza nei confronti della città che ci ha accolto, ahimè, nel periodo del Covid, quattro anni fa. Siamo stati veramente accolti in una maniera incredibile, che non ci aspettavamo. Siamo aiutati, solidarietà e siamo tornati a Rieti anche per sdebitarci. Sdebitarci perché è doveroso, perché comunque noi gente del circo siamo così. Manteniamo ancora dei valori che, ahimè, purtroppo stanno un po' scomparendo. E siamo venuti a sdebitarci presentando uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo che porterà tanta allegria alle famiglie, ai bambini soprattutto. Due ore di divertimento e stupore per grandi e piccini che da questo pomeriggio alle 16 fino al 10 novembre avranno l'occasione di ammirare da vicino numeri emozionanti che spaziano da acrobazie mozzafiato a spettacoli con animali e artisti di fama internazionale pronti ad esibirsi con numeri sempre più elaborati e spettacolari. Animali trattati con rispetto e cura, come tengono a far sapere dal circo Orfei, da sempre impegnato a garantire condizioni di vita adeguate, rispettando le normative di benessere animale e mantenendo un ambiente che favorisca la salute e il benessere di ogni esemplare. Per noi gli spazi sono molto importanti, importantissimi. Dove il comune ci mette a disposizione aree per far correre, per far muovere liberamente i nostri animali, noi le sfruttiamo a pieno. Negli ultimi anni il dibattito sull'uso degli animali nei circhi ha portato a grandi cambiamenti e anche il circo Roland Orfei, con la sua lunga esperienza, ha cercato di adattarsi per rispondere alle nuove sensibilità del pubblico e alle normative più rigorose. La direzione del circo punta a educare gli spettatori, soprattutto i più giovani, sull'importanza del rispetto verso ogni essere vivente, mostrando come un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto possa portare a risultati straordinari, senza compromettere il benessere degli animali. Voglio tranquillizzare tutta la popolazione di Rieti che i nostri animali stanno benissimo, in questo momento c'è l'ASL e i carabinieri della forestale che stanno controllando il mantenimento, lo stato di salute, le documentazioni e ci tengo a precisare che veramente noi per i nostri animali doniamo la vita, veramente, nel vero senso della parola. Sono parte integrante della famiglia, sono tutti animali nati all'interno della struttura circense, tutti animali cresciuti a mano. Sfatiamo il mito che noi circense andiamo a prelevare in natura gli animali per farli esibire al circo, no, sono tutti animali nati all'interno del nostro circo. Le esibizioni, per tutto il pubblico che verrà a vedere lo spettacolo, si renderà conto che le esibizioni non sono altro che una rappresentazione, un modo di mostrare, soprattutto ai più piccoli e di far conoscere ai più piccoli, delle specie che non hanno mai visto. Molto più che semplice intrattenimento, il circo è da sempre un'esperienza culturale che mescola abilità artistiche, creatività e un forte senso di appartenenza familiare. Da secoli, infatti, le famiglie circense italiane tramandano quest'arte con dedizione e orgoglio, contribuendo a mantenere vivo uno dei mestieri più antichi e amati. Famiglia, è proprio questo uno dei valori che fanno grande il nome del circo Orfei, che è di tutti, tanto che... Siamo qua all'interno della scuderia degli erdivori, come li chiamiamo noi, sono animali erdivori, e qua voglio farvi vedere la capretta Rieti, che è nata quattro anni fa, proprio qui a Rieti, e vicino c'è il piccolo lama che è nato l'anno scorso a Potenza. Ovviamente gli abbiamo dato il nome Potenza, perché noi usiamo dare il nome delle città in cui nascono i nostri animali. È una bella prassi che abbiamo instaurato da tanti anni oramai. Il ritorno del circo Rolando Orfei si presenta così come un evento simbolico e coinvolgente. Un tributo all'arte circense e alla tenacia di chi, nonostante tutto, continua a credere nei sogni e nel potere dell'intrattenimento.